Anticipazioni Beautiful, Wyatt e Katie, primi problemi. Puntate americane, la storia segreta tra Katie Logan, Heather Tom e Wyatt Spencer, Darren Brooks, nelle prossime puntate americane di Beautiful, sta per incontrare un primo ostacolo. E non verrà da intromissioni esterne, che peraltro sembrerebbero destinate a non esserci. La madre del ragazzo, Queen Forrester, Rena Soffer, nonostante una iniziale forte reazione, ha poi subito deciso di non immischiarsi nella vita personale del figlio, accettando, o quantomeno tollerando, il suo flirt con una donna con la quale ha una recente storia di conflitti. Le altre persone a conoscenza della frequentazione, ovvero Eric, John M.C. Cook e Brooke, Katrin Kelly Lang, la quale ne ha informato, come confidenza di coppia, Ridge, Thorsten K., sono stati di supporto. Il problema che si presenterà, dunque, sarà piuttosto dovuto alla diversa visione che a questo punto Katie e Wyatt hanno della loro relazione. Come già successo con le precedenti sue ex, il giovane potrebbe trovarsi in uno stadio di innamoramento più avanzato risa all'ex matrigna. Katie ha già avuto modo di esprimere come questo flirt sia per lei un tocco di leggerezza e disimpegno, tanto che la segretezza non fa che alleviare la storia da qualsiasi eventuale complicazione. Ma i suoi sentimenti per Wyatt stanno evolvendo o la relazione rischia di essere per lei solo una piacevole avventura. Infatti Wyatt dovrà incassare. Quello che per lui sarà un brutto colpo quando Katie non lo inviterà come suo accompagnatore alle prossime nozze di Ridge e Brooke. Il ragazzo pensava che proprio quella potesse essere l'occasione di avere una prima uscita pubblica, smettendo così di nascondersi e passando allo step successivo, ma dovrà fare i conti con il parere contrario della Logan. Tra l'altro, in veste di damigella d'onore della sorella, Katie si ritroverà a stretto contatto con Thorne Forrester, Ingora Demacher, il quale si è già dimostrato positivamente colpito dall'aria più sbarazzina, sicura e radiosa di una Katie che si prende meno sul serio. I due, nel lontano 2007, ebbero un piccolo e breve flert, dopo che lei fermò le nozze del giovane Forrester con Donna, frutto di un inganno della sorella che aveva intenzione di vendicarsi di Stephanie. La frequentazione però finì presto, man mano che le ostilità tra Forrester e Logan si riaccendevano, culminando nel tentato omicidio della matriarca da parte di Storm. Per il momento, tuttavia, il loro flirt dell'epoca non è stato menzionato, un po', come voler far finta non sia mai esistito, i dialoghi dei prossimi episodi rimedieranno a questa svista. Intanto Wyatt, alla ricerca di un confidente, deciderà di rivelare a Liam Scott Clifton, di andare a letto con Katie fin dalla scorsa estate, cogliendo il fratello di sorpresa. Il familiare comunque si dimostrerà di sostegno, offrendo a Wyatt alcuni consigli su come gestire la situazione. Le prime anticipazioni americane sul matrimonio tra Brooke e Ridge segnalano comunque che, durante il ricevimento, potrebbero esserci un paio di baci inaspettati tra alcuni invitati. Uno di questi potrebbe scattare tra tornichetti, da non perdere, diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful. Ecco l'indirizzo, htps2.com.beautifulsufsoap.com. Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful sono qui. Le trame delle puntate, invece, sono qui. Anticipazioni puntate americane Katie Beautiful Wyatt Beautiful 2018-02-05 Andrea Gigli